È un investimento sulla sicurezza che supera gli 800.000 euro, quello che se i comuni dell'Unione Pian del Bruscolo mettono a terra per implementare la videosorveglianza dei rispettivi territori. 357 telecamere, molte delle quali con sistema di rilevazione Targa System per un salto di qualità aggiuntivo alla sicurezza del territorio che funga da deterrente a furti, reati e infrazioni al codice stradale. Sistemi di videosorveglianza che sono stati presentati oggi nella sede dell'Unione Pian del Bruscolo alla presenza degli amministratori dei sei comuni coinvolti e dei funzionari della Polizia Locale. Le telecamere che sono state implementate nel territorio di Vallefoglia, Tavuglia e Monbaroccio hanno delle nuovissime caratteristiche, sono telecamere su una piattaforma molto moderna e prevedono sia telecamere di contesto che consentono il controllo di un'intera area H24 tutti i giorni dell'anno e una registrazione dei filmati sufficientemente lunga per consentire poi alle forze di polizia di intervenire nel caso vengono consumati degli illeciti. Ci sono anche delle telecamere intelligenti, cosiddette intelligenti, che sono telecamere Targa System che consentono la lettura delle targhe e l'incrocio di questo dato della targa con tutta una serie di banche dati che restituiscono informazioni fondamentali per la fase della prevenzione che sono il transito di vetture che risultano oggetto di furto, il transito di vetture che sono prive della copertura assicurativa, che sono prive della copertura della revisione periodica e consentono di fare rete fra gli organi di polizia affinché le informazioni investigative inserite nel sistema siano condivisibili a tutti. Per esempio se una vettura dal territorio di Pesaro dove gli occupanti hanno consumato un illecito si sposta verso un altro territorio dello Stato, le informazioni e tutti i Targa System sul territorio ci consentono di seguire il percorso di questa vettura fino a costruirne l'indagine e la prova per denunciare all'autorità giudiziaria gli autori del reato. Nel dettaglio sono 84 le telecamere fra Gabic e Gradara per 412 mila euro di investimento ed invece 406 mila euro l'investimento nei restanti sei comuni per 123 telecamere fra Vallefoglia, Tavuglia, Monbarocce e Monte Ciccardo che si aggiungono alle 150 già presenti nella città di Pesaro. Siccome questo è incomprensorio, per fortuna un'unione dei comuni che è la più importante delle marche è ancora molto sicura e noi siamo orgogliosi che rimanga sicura. Abbiamo il dovere di avere una rete di controlli grazie alla collaborazione con la prefettura, con la questura, con l'arma dei carabinieri, con la guardia di finanza, con la polizia dello Stato, pur essendo un compito dello Stato, del Ministero degli Interni, la sicurezza, ma la sicurezza poi si ripercuote inevitabilmente sul sindaco. Se la città non è sicura o c'è una percezione che non è sicura, non è solo il controllo delle telecamere o il controllo della velocità, del rispetto del codice della strada e anche avere la piena occupazione. Questo è un territorio dove c'è il lavoro, c'è la piena occupazione, è un territorio dove cominciano a scarseggiare le case perché quelli che vengono per lavorare e poi se non trova la casa ritornano via, però è un territorio ricchissimo e questo investimento io ho ringraziato i sindaci, tutti i sindaci, la Giunta dell'Unione perché per noi è un investimento importante sul futuro delle nuove generazioni per la sicurezza di questa parte del territorio, di questa economia, della sua rete commerciale e l'insieme della comunità dei cittadini.